Coach Francani, ripartiamo dalla penultima da Trani, persa a fil di sirena, perdere anche questa a fil di sirena forse è quello che fa più male, visto quello che poteva essere in classifica e non è stato per due partite girate nel giro degli ultimi minuti. Sì, dispiace, però purtroppo, io lo dico dall'inizio, questa è una squadra che è nuova e quindi probabilmente si dovrà amalgamare purtroppo passando sopra anche a queste sconfitte che bruciano di pochi punti, dobbiamo trovare la forza dentro di noi di unirci sempre di più per provare poi nel corso del campionato di vincere queste partite di pochi punti probabilmente. Alessio Giuffre, 20 in 32 minuti, 19 di valutazione, direi per noi MVP, i numeri dicono questo, una buona partita, un pronto riscatto, come hai visto la tua squadra e come hai visto questo Roseto? La mia squadra chiaramente veniva da una brutta sconfitta interna e quindi venivamo qui con l'intenzione di riscattare e di recuperare questi due punti anche perché perdendo fuori casa sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva e forse saremmo stati risucchiati nel centro classifica che in un torneo così equilibrato sarebbe stato un grosso problema anche a questo punto del campionato. Grazie